Ciao, sono Elisa Giovanardi, sono laureata in ingegnere dentale e svolgo questa attività quotidianamente. Recentemente ho avuto modo di provare il nuovo proprio class 4 della CAV e devo dire che mi è molto impressionata la nuova ergonomia, che lo rende estremamente leggero e maneggevole. Uno degli aspetti che mi ha colpito di più è la maggiore efficacia che consente comunque di rispettare i tessuti dentali con una migliore dispersione di aerosol. Devo dire in definitiva che sono molto soddisfatta di questo nuovo strumento della CAV.